Eccoci, eccoci ancora insieme, vado a salutare Guido Pagliaga, geologo, presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale della Liguria. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, insieme a lei per riflettere sulla situazione delle frane nella nostra regione, abbiamo visto insomma dopo le ultime ondate di maltempo che hanno interessato la nostra regione frane da Levante a Ponente. Qual è la fotografia che ci potete aiutare, che ci può aiutare a scattare? Bene, quello che è accaduto si è sviluppato su un territorio che è già diciamo notoriamente ricco di frane. Il database ISPRA del progetto IFI, dell'inventario Fenomeni Franos in Italia, ne censisce oltre 13.500 sulla Liguria. Ma al di là del numero che può voler dire anche poco oggettivamente, sono i disagi che questi fenomeni naturali, per lo più naturali, provocano sul territorio. In particolare per quello che è successo negli ultimi giorni, a seguito delle piogge intese degli ultimi giorni, abbiamo visto la riattivazione o attivazione di frane di medie dimensioni già ben note e conosciute, come quella di Caponoli ad esempio, fenomeni di crollo che conosciamo da decine di anni, nel senso che sono attive da molto tempo, ma abbiamo visto l'attivazione di piccoli fenomeni franosi come quello che stiamo vedendo qua nelle immagini, che arrecano un grande disagio, provocano danni e che in molti casi potrebbero essere mitigate nei loro effetti con un'attenta operazione e azione di prevenzione sul territorio. Ecco, questo è il punto Pagliaga, per cercare di mitigare, per cercare di arrivare prima che poi la frana interrompa una strada oppure colpisca una scuola. Si può fare prevenzione? Come si può fare prevenzione? Il primo strumento per fare prevenzione è la conoscenza, conoscere. Occorre monitorare continuamente il territorio, perché il territorio è in continuo divenire, in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Lo è per via naturali, per ragioni naturali, lo è anche perché anche noi con le nostre attività ci mettiamo il nostro, si può dire, nel senso la realizzazione di strade o la mancata manutenzione, ad esempio, delle caditoie stradali, dei percorsi di scorrimento delle acque superficiali, possono indurre una concentrazione delle acque in luoghi, in posti dove magari precedentemente questo non avveniva. Per cui monitorare vuol dire monitorare attraverso strumenti, gli strumenti che la tecnica ci mette a disposizione oggi, quindi il remote sensing, le foto satellitari, le immagini, i dati satellitari di varia natura, mediante diversi sensori, la ricostruzione mediante modelli tridimensionali della superficie del territorio. Sono tutte tecniche molto moderne che permettono di valutare con grande dettaglio e precisione sia i movimenti del terreno che le modalità, come dicevo, con cui l'acqua di scorrimento superficiale va a concentrarsi, ad esempio, in alcuni punti piuttosto che in altri. Poi serve naturalmente un occhio esperto sia per interpretare questi dati che per metterli insieme, ma anche per leggere quello che avviene sul territorio stesso, quindi un monitoraggio anche visivo da parte di esperti, da parte di geologi, che permetta di valutare quelle che sono le condizioni del territorio, valutare i segni premonitori che si possono vedere spesso. Faccio un esempio banale, quando percorriamo una strada dell'entroterra e in mezzo alle curve e ai tornanti improvvisamente sentiamo la macchina sobbalzare, spesso si tratta di un piccolo avvallamento che può essere, non è detto che lo sia, ma può essere un precursore di un avvallamento che poi evolve in una frana, in una piccola frana. Ecco, se si interviene in queste situazioni, quando questo precursore segnala l'inizio del movimento, si evitano danni e, evidentemente, disagi successivamente, ma si spendono anche meno soldi rispetto a quanto poi costa invece dover magari sistemare una strada a posteriori rispetto all'innesco di una frana vera e propria. E nell'emergenza, ovviamente, senza poi considerare quelli che possono essere i danni alle persone. Grazie, grazie mille al Presidente regionale dell'Associazione Italiana di Geologia Ambientale, Guido Pagliaga, buon lavoro. Grazie, anche voi, buongiorno.